La Regione Abruzzo presenta un rendiconto sui livelli dei LEA raggiunti nell'anno 2015, un vero incremento in positivo se si comparano i dati rispetto al 2012, che segnava un più 0,7, divenuto tre anni dopo un più 11,7%. Si tratta di un punteggio conseguito in merito a 21 voci che prendono in esame tre grandi aree suddivise in assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro, assistenza distrettuale e assistenza ospedaliera. 182 il punteggio raggiunto nel 2015 con un punteggio minimo richiesto di 160, segnali positivi che soddisfano l'assessore regionale alla sanità. C'è un andamento largamente positivo. Ebbene, la Regione Abruzzo tra il 2015 e il 2014 ottiene un incremento record di 19 punti spalmati prevalentemente sull'assistenza territoriale e distrettuale e sulla prevenzione. Sono salti in avanti sulla qualità delle cure, attestate anche nell'ultimo verbale del tavolo di monitoraggio, laddove il Ministero della Salute ha precisato che si dà atto alla Regione Abruzzo di ampi miglioramenti sulla qualità delle cure. È una promozione a pieni goti che ovviamente ci fa essere soddisfatti sul lavoro che abbiamo alle spalle, ma che ci incoraggia anche sui prossimi obiettivi che dobbiamo tutti insieme raggiungere. Guardando quella che è una classifica nazionale, dove si attesta l'Abruzzo? Ma intanto noi abbiamo quelle del 2013 e del 2014. Non abbiamo ancora le classifiche legate al 2015 perché abbiamo il nostro risultato, ma non conosciamo ancora il risultato delle altre Regioni e sarà il Ministero della Salute a pubblicarlo per tutte le Regioni. Però va da sé che se l'adempienza si ottiene a 160 e l'Abruzzo oggi è a 182, certamente è stato fatto un grande passo in avanti che attesta che questa Regione, oltre a concludere l'esperienza commissariale, è riuscita ad anche incrementare la qualità della propria assistenza di salute.